Mr. Paolo Quartuccio è la finale dei playoff del Giro del Cile eccellenza contro la Vertovese affrontiamo una squadra che abbiamo già incontrato due volte in questa stagione è quella che è arrivata leggermente dietro di noi, sarà una partita difficilissima Sì, questo è stato tutto l'anno, abbiamo passato un anno con partite sempre difficili ed è stato anche per questo molto bello, molto combattuto che dirti, bisogna innanzitutto dare dei meriti ai ragazzi e lo voglio fare oggi perché a prescindere domani è una partita secca, però abbiamo fatto un grossissimo percorso facendo già una finale a gennaio di Coppa Italia rifarne un'altra dopo cinque mesi è motivo di grande orgoglio i meriti vanno tutti ai ragazzi che vogliono arrivare fino in fondo non capita tutti gli anni di poter giocare queste partite quindi a prescindere dall'avversario, dalla forza domani deve essere per noi un premio e giocarci tutte le nostre carte a disposizione per poter fare bene perché vogliamo arrivare fino in fondo guarda, domani è una partita secca quindi può succedere, ripeto, di tutto perché ci sono talmente tanti fattori che a condizionare una partita speriamo, dai speriamo, loro li conosciamo bene loro conoscono noi, è una squadra molto forte e strutturata non la scopriamo di certo oggi siamo anche noi all'altezza loro quindi sarà una partita sicuramente interessante speriamo che vinca il migliore